Per cortesia, signorina, non puoi entrare più la stanza. Signoria! Io non mi muovo di qui finché non mi firma questo. Scusa, ma quella metti via la roba te. Io lavoro con i colori. E' tutto strano, rosa, azzurro. No, ma quello che ho visto io era quello che vedeva lui. E lui ha visto quello che normalmente vedi tu. Voglio vedere un po' il mondo come lo vedi tu. E' come il mio mondo di sempre, ma più bello. Anche per me. Fermo! Fermati! Non ti trovo che è importantissima! Il nero. Il nero assoluto.